Grave rutto nel mondo del calcio, è morto infatti il buon Kelvin Maynard, aveva 32 anni di età, è stato fatto fuori nella notte a colpi d'arma da fuoco nella sua automobile, scusatemi, ad Amsterdam, la capitale dell'Olanda, da ben due uomini, motorino. Vi ricordo che era un difensore francese del Suriname ed è stato soccorso ma niente da fare per l'uomo, la polizia locale è alla ricerca di due sospetti che diversi testimoni hanno visto allontanarsi dal luogo dell'agguato, attraverso l'uso di uno scooter di colore nero. Maynard, giocatore dei Quick Boys, in carriera è giocato anche in ere divisi e andando a vestire tra le altre le maglie dei FC Vollendam, FC Emmen, Royal Antwerp, Barton Albion e SV Spakenburg. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua, un saluto caro da Leandro alias dal vostro narratore italiano Kelvin Maynard. Riposi in pace, Amen.